Come fare il design di un sito web? Guarda, vedo tante di quelle cose incredibili in giro che il mio consiglio a chi è un imprenditore freelance o una piccola media azienda che non ha grandi budget e possibilità ma vuole avventurarsi nei meandri della giungla del publishing online il mio suggerimento è non ti far fare una sorpresa perché quello che succede normalmente è che uno va da un designer da un grafico, da un web e gli dice tanti ore fanno un sito, mi hanno detto dovrei avere un blog e quelli dicono sì sì tranquillo eccetera fanno passare qualche settimana, qualche mese e poi tornano lì da te con una cosa che ovviamente il cliente, chi si deve far fare il sito dice wow fantastico ma che in realtà non è nient'altro che un tema di wordpress preso su theme forest o da qualche altra parte con semplicemente la sostituzione dei colori l'inserimento del logo dell'azienda di questo cliente ovviamente tu rimani super impressionato positivamente perché il design, il template è professionale ma quello lo può comprare chiunque a 30-40 dollari e loro hanno speso che ti devo dire due ore, tre ore, quattro ore e mezza giornata per mettere il logo e due o tre foto qui e là ma di più non è stato fatto quindi con tutto il rispetto per i grafici e web designer che adottano questo approccio benissimo io non li sto criticando io sto parlando a chi spende soldi e tempo per farsi fare un sito e ricevere questo tipo di servizio io suggerisco di approcciare le cose in una maniera un pochettino diversa vai tu direttamente su theme forest e cerca un tema che si adatti al tuo sito io nel tempo ne ho collezionato qualcuno non prendere i miei riferimenti come il top del top però nella collezione che trovi segnalata su questo video e nella sua descrizione puoi trovare un po' di vestiti per siti web che secondo me hanno le fondamenta giuste poi controlla in base a quelle che sono le esigenze i contenuti che vuoi pubblicare i problemi che vuoi risolvere attraverso i tuoi contenuti sul sito web che quel tema template abbia le tipologie di pagine che a te servono specificamente non è che mi serve un sito così come dire mi serve un vestito per coprirmi mi serve un vestito per fare una cosa specifica che non è semplicemente comunicare con i clienti ma è creare dei contenuti in dei formati particolari che ne so, delle notizie piuttosto che ho un calendario di eventi ho un directory di servizi oppure di risorse oppure di prodotti quindi a seconda delle tipologie dei contenuti che ho voglio andare a vedere che il tema che scelgo abbia delle pagine adatte a quel tipo di contenuti lì mi scelgo un tema specifico e faccio le foto, gli screenshot alle 2, 3, 4, 5 pagine principali la home page, chi sono la pagina magari degli articoli o delle guide di contenuto che produrrò il catalogo, la pagina dei testimonials faccio lo screenshot al tema originale e me lo metto dentro Google Slides dentro PowerPoint, Keynote il programma di presentazione che vuoi e poi vado piano piano a sostituire a ritagliare quello che c'è nel tema originale con le mie immagini con i miei titoli, le mie scritte, il mio menu di modo che posso adattare io stesso usando uno strumento semplice e a costo praticamente gratuito il design del mio sito come lo voglio, quali sono le sezioni e parto dallo stesso look che avrebbe preso un web designer o un'agenzia professionale a quel punto creandomi io questo design posso andare dopo da un grafico, da un web designer developer, quello che sia e dirgli guarda, questo è il design del sito il tema da usare e da acquistare è questo qui il logo deve apparire qua, come vedi le immagini sono queste i titoli delle sezioni sono queste qua a questo punto il costo sarà estremamente ridotto non ci dobbiamo inventare niente i tempi saranno molto più rapidi e non ci sarà nessuna sorpresa tu sai esattamente quello che verrà fuori perché l'unica cosa che ci serve veramente è qualcuno che poi sappia trattare il codice HTML la parte più tecnica della realizzazione di queste pagine e possa adottare quegli accorgimenti e quelle rifiniture grafiche che noi abbiamo richiesto quindi il design, fallo tu perché se devi pagare qualcuno per prendere un vestito e metterci due decorazioni e due spillette intorno per farlo sembrare personalizzato per te questo lo puoi fare da solo risparmiando soldi, tempo e tante frustrazioni questo è il mio consiglio iscriviti al nostro canale